Una buona giornata E benvenuti a Mattino 6 in questo giovedì 4 gennaio 2018 Siamo pronti per andare a sfogliare i giornali quotidiani di casa nostra Anche le prime pagine dei nazionali Cominciamo come di consueto in questa prima parte con le prime pagine E andiamo sulle quattro edizioni del quotidiano Il Centro Partendo con l'edizione di Pescara Che apre con il re della Movida arrestato per stalking Ivan Vaccaro, organizzatore di eventi al Tortuga Accusato di aver perseguitato l'ex socio Per questo è stato arrestato Andiamo in alto con la questione che riguarda il caro pedaggi A24 e A25 La rivolta dei sindaci Tutti contro il caro pedaggi Ed Alfonso scrive all'autorità dei trasporti Poi nei tre box vediamo la petizione La protesta diventa online Proprio in relazione all'aumento del pedaggio sull'autostrada Con 40.000 no agli aumenti Altre notizie Oggi l'assemblea lega ambiente contro tre progetti di gasdotti E poi l'annuncio L'aeroporto d'Abruzzo avrà una pista più lunga Queste sono le altre notizie che troviamo in alto Scendiamo a centropagina Nella fotonotizia Lungomare invaso da Bancarelle Appello al prefetto Siamo a Pescara ovviamente Dopo la donna aggredita insorgono i residenti Nelle cronache Vediamo il via ai saldi Con sosta gratis e festa in centro Si parte domani Funerali a Francavilla La folla in lacrime per Cinzia La donna morta nel tunnel Per lo sport Calcio di Serie B Ecco i promossi e i bocciati del Pescara Dopo la prima parte di campionato Ricordiamo che bisognerà aspettare Il 20 di gennaio Per rivedere la Serie B In campo E poi all'interno troviamo anche un'altra notizia Sacchetti bio, il rifiuto dei consumatori Ora si pagano Insomma una notizia che moltissimi di voi già conosceranno Lasciamo l'edizione di Pescara Andiamo sull'edizione aquilana Sempre del centro Con questo titolo La città è insensibile alle vittime L'Aquila I familiari gravi le firme per i parcheggi E contro il parco Nella foto Notizia Gli operatori denunciano Così uccidono il turismo Strada chiusa a Santo Stefano di Sessanio Manifestazione di protesta sul cumulo di sassi Che impedisce il transito per campo imperatore Nelle cronache Centro blindato all'Aquila Per la fiera dell'Epifania Ad Avezzano File caos Al cambio del medico Assulmona in 120 ad Amalfi Per Don Fusco Nuovo Vescovo Questa è la prima pagina dell'edizione aquilana Andiamo sull'edizione teramana Questo è il titolo Evade un milione di IVA Assolto Teramo L'imprenditore ha preferito pagare gli operai Ecco il motivo dell'evasione a quanto pare dell'IVA A centropagina la fotonotizia Acqua del Gran Sasso C'è un progetto tenuto segreto Il 13 un'assemblea per decidere nuove proteste E poi Nelle cronache E' morto Marini il signore del commercio Portò le tv a Teramo Portò le tv a Teramo A Roseto Presto nuove aziende nell'autoporto Lo annuncia la maggioranza A Giulianova Sulla piscina Il partito democratico Attacca il primo cittadino Francesco Mastromauro Chiudiamo le quattro edizioni Con la prima pagina Delle edizioni di Chieti Sempre del centro Che modifica un po' Il titolo che abbiamo visto per l'edizione di Pescara Re della Movida Arrestato per stalking In realtà l'argomento è lo stesso Il teatino Ivan Vaccaro Organizzatore di eventi Accusato di aver perseguitato L'ex socio Nella fotonotizia I negozianti Traggono un po' un bilancio Delle festività Che ci siamo messi alle spalle Natale nero La speranza è tutta Nei saldi Sia sul colle Che allo scalo Deludenti Le vendite Nel periodo natalizio Nelle cronache A Chieti Megalotto 159 posti a pagamento Il comune Firma Sempre a Chieti Botte alla moglie Finisce in carcere Un marito Violento E poi a Lanciano Minimo storico Dei residenti Appena 35.000 Cambiamo quotidiano Adesso Andiamo Sulle colonne Del messaggero Ovviamente Edizione Abruzzese E l'apertura È sempre dedicata Al caro autostrade Scatta La rivolta In campo Anche i sindaci Laziali Summit A Carsoli Per studiare Clamorose forme Di protesta Partono i ricorsi Di D'Alfonso Lettere Alle Autoriti All'Unione Europea Pietrucci Dice Torni La gestione Anas Sul Gran Sasso Acqua Sicura Nuova marcia Il 13 Di gennaio Saliamo in alto Per altre notizie Che sono nella parte Superiore Della prima pagina Via I Saldi Area di risulta Gratis A Pescara Chieti Aspetta La ripresa All'Aquila Il comune Si farà il parco Della memoria A Piazzale Paoli Per il calcio Serie B Pescara Su Embalo Si può fare Pigliacelli Cetuto Alla Provercelli Mercato Zampanoresta Gans Vicinissimo Alla firma Con Lascoli Chievo E Cagliari Dalla Serie A Hanno chiesto L'attaccante Pettinari Scendiamo In pagina La notizia Che abbiamo trovato Anche sul centro Per seguita Socio e amico A Pescara Un arresto VIP Finisce ai domiciliari Il 26enne Teatino Ivan Vaccaro Noto gestore Di discoteche Altra notizia Di cronaca Pescara Colpo grosso Svaliggiata la casa Del titolare Del centro Iale Scendiamo E vediamo La fotonotizia La protesta Aprite Questo piccolo Tibet L'Aquila La montagna Negata Manifestazione Di protesta Pacifica Ieri A Santo Stefano Di Sessagno Oltre 100 persone In marcia Contro la chiusura Delle strade Montane Del Gran Sasso E poi L'anno che verrà Siamo all'inizio Del 2018 Giustizia Attesa Per Rigopiano Peraltro Tra pochi giorni Ci sarà L'anniversario Purtroppo Del primo anno Dalla sciagura Dell'hotel Rigopiano Andiamo adesso In provincia di Teramo Con la prima pagina Della città Che apre Con questo titolo Dossier sui rincari Strada Parchi Per il governatore D'Alfonso Il caro Pedaggi Ucciderà La mobilità Autostradale In alto Teramo Il commissario Salva Il servizio Scuola Bus A centro pagina La fotonotizia Sfollati dal vento Tetti scoperchiati E alberi Abbattuti Case Evacuate Scendiamo ancora sotto Silenzio Assordante Sulle captazioni L'osservatorio Dell'acqua Convoca Come vedete Un'altra assemblea Di spalla A Giulianova C'è la foto Del sindaco Mastromauro La cui candidatura Sembra essere Complicata Senza il decreto Salva sindaci Teramo Anche andrà Al voto Covelli Candidato di bandiera Per Dodo Di Sabatino Scendiamo ancora in basso A Roseto Degli Abruzzi Strisce blu Proroga Anche per gli errori E per il Per lo sport Basket serie B Ruscitti Carica il Teramo Basket Per il derby Con Giulianova Cuore caldo Mente Fredda Cambiamo adesso Quotidiani Andiamo su quelli nazionali Per vedere anche Le principali notizie Non solo abruzzesi Anche italiane Ed internazionali Partiamo Con il Corriere della Sera Che apre con la questione Candidati 5 Stelle Candidati 5 Stelle Che sono in tilt Salta il sito Riaperti i termini Raggi Chiede di essere giudicata Dopo il voto Verso le elezioni Scontro PD Centristi Sul simbolo Ma la Lorenzini dice L'alleanza Non è in discussione E poi l'analisi La democrazia su internet La rete bucata Di Russoil Software Che gestisce Il blog Dei 5 Stelle La sindaca Il nodo Marra L'ex braccio destro Ora è un ostacolo La sindaca ovviamente Si riferisce a Virginia Raggi Scendiamo A centropagina Perché L'ex collaboratore Del presidente Dei Stati Uniti Donald Trump Steve Bannon Lo accusa E Trump risponde Ha perso La testa Rottura pubblica E rissosa Quella tra Steve Bannon E Donald Trump Sul caso delle presunte manovre Per incastrare Hillary Clinton Bannon dice Fu un atto Da traditori Trump Risponde Steve Ha perso Il cervello L'ex Collaboratore Parla di Incontri Sovversivi Addirittura E poi In basso Le app Che intrappolano Gli adolescenti Scambio di video Indirizzi insulti Un'onda Che può travolgere Femmine Che può travolgere Femmine E maschi Cambiamo Quotidiano Andiamo sulla Repubblica L'apertura Processo subito La mossa di raggi Per aiutare Di Maio Movimento 5 Stelle Ecco i candidati Russo sotto accusa I radicali Cominciano da soli La corsa elettorale Sacchetti ecologici La polemica Investe Renzi Le analisi Di Carlo Bonini E Sergio Rizzo L'ultima favola Di Virginia E poi Il commento Un conflitto di interessi All'orizzonte La foto Che vedete E che si sviluppa Con la notizia In basso La vendetta Di Steve Bannon Sul Russiagate La rabbia di Trump Ha perso La testa Leggiamo anche Rapidamente Le parole Di Donald Trump Quando l'ho licenziato Non solo ha perso il posto Ha perso anche la testa Donald Trump Vuole recidere Ogni legame Con la sua Ex anima nera Il teorico di estrema destra Steve Bannon Scendiamo in fondo La quarta pagina Fisco La giungla Degli sconti Dagli armatori E negozianti Se ne vanno Oltre 76 miliardi L'inchiesta La vecchia fabbrica Imita Amazon L'algoritmo Ordina i ritmi Di lavoro Palazzo Ducale Sicuramente Avrete sentito La beffa di Venezia Rubati i gioielli Come in un film Come il più Provetto Arsenio Lupin Il ladro O i ladri Si sono intrufolati ieri Per rubare i gioielli A Venezia La stampa La stangata dei comuni Con la tassa di soggiorno Tesoretto Da 650 milioni Quest'anno 100 città Introducono L'imposta per i turisti Raffica di rincare In tutta Italia L'ira Degli albergatori Poi Celentano Il giovane Il molleggiato Compie 80 anni Radiografia Di quella che è Una vera e propria Icona musicale E non solo Per la politica La stampa Colloca Il Movimento 5 Stelle A centro pagina Sorpresa Per il Movimento 5 Stelle I giornalisti Nelle liste Alleanze difficili Per i dem A rischio Anche i centristi Vediamo un po' Anche chi sono Di Maio A ruolo a Paragone Ex vice direttore Di Rai 1 e Rai 2 Ex conduttore Della Gabbia Carelli Ex inviato di Canale 5 Ex direttore responsabile Sky TG24 La Iena Giarrusso Ecco Questi dovrebbero essere I candidati 5 Stelle Che hanno Una certa affinità Con il mondo Del giornalismo Chi c'è Nelle liste 5 Stelle Passiamo al fatto quotidiano Nei collegi Anche esterni Come Lannutti E i giornalisti Carelli E Paragone Primario online Col voto web Il Movimento 5 Stelle Il primo partito A svelare I suoi candidati A centropagina Il Jobs Act Fine dei sussidi Al 2018 Arriva un'ondata di licenziamento Ritorno alla realtà Via 4 bonus Dei trionfalismi Renziani Russia Gate Bannon Contro Trump Il figlio È un traditore La risposta Ha perso La testa E poi Altre Nei box Gol in bottiglia Buffon Negli altri Campioni di calcio Dal pallone al vino Stop intercettazioni Decreto Orlando Più difficile Indagare Sull'arma deviata Il manifesto Con questo titolo Solito gioco di parole Molto bello Solo mazzate Trump torna a Washington Il primo giorno Lontano dai campi da golf Incendia le crisi di mezzo mondo Dal Medio Oriente alla Corea Anche il suo ex stratega Steve Bannon Ne è abbastanza Con i russi Incontri sovversivi E da stupidi In alto Il ricatto di Washington La casa bianca Ai palestinesi Ora negoziate con Israele Senza condizioni O vi tagliamo I fondi Povero Iran Per i Pasdaran La sedizione è finita Il governo Manda in piazza I suoi Dopo le proteste Che ci sono state Nei giorni scorsi Contro il governo Ieri è stata la volta Proprio dei Pasdaran Che appoggiano Proprio il governo In carica Verso le elezioni In Italia Sito in tilt Per le parlamentarie Del Movimento 5 Stelle Di Maio Chiediamo appoggio Ai partiti Il messaggero Raggi a processo Dopo il voto Sito Movimento 5 Stelle In tilt Troppi candidati Chiesto il giudizio Immediato Nel codice etico Spunta la norma Salva Virginia Da paragone All'attrice Delle moleste La corsa grillina Al seggio In Parlamento E poi Concorsi statali Assunzioni mirate Con nuove regole Stop minibandi Unica selezione Per più enti Quest'anno Previsti 130.000 Ingressi Nella pubblica Amministrazione Venezia Furto Stile Top capi Rubati Gioielli Del Maharaja Esposti Al palazzo Ducale Valgono Milioni Il Tempo Con un Consiglio Non vi ammalate L'inchiesta del Tempo Il dossier Shock sulle ambulanze In ritardo Ovviamente Siamo a Roma Barelle ferme Al pronto soccorso E i pazienti Ammassati In corsia Di spalla La Bonino A caccia di una poltrona La fine di Emma Dai radicali Ai radical chic A centropagina Ovviamente Siamo Prettamente Su un ambito Romano Capitolino Io e gli sms Alle alunne Ora basta Vi dico la verità Parla il docente Del liceo Tasso Accusato Di molestie Sessuali Diario capitale La raggi Sceglie il rito Immediato E salva Il movimento 5 stelle E sempre a proposito Del primo cittadino Romano Il lieto fine Separazione Finita Il marito Di virginia Ritorna A casa L'intervista Anche a Sergio Pirozzi Rimango in Campo Il centrodestra È con me Il sindaco Di Amatrice Sergio Pirozzi Ribadisce Non volersi Ritirare Dalla corsa Per le regionali Del Lazio In basso Lo stadio Della Roma Prende forma Ponte Strade E metro Ecco Tutti i paletti Del nuovo Impianto Che dovrebbe Sorgere A Tordivalle Libero Vescovi In allarme La gente Non vota E diserta Le chiese Politica E religione Dunque Hanno stufato Questa L'apertura Del quotidiano Diretto Da Vittorio Feltri La fotonotizia È dedicata Ad Emma Bonino La lista Della Bonino È un aborto Emma Non sa raccogliere Le firme E cerca Poltrone Scendiamo Cala il prezzo Dell'energia Salgono le bollette Più che un controsenso È un furto Ancora altre notizie Meglio che Obama Restituisca il Nobel Come l'Oscar Va ritirato Per indegnità Cambiamo quotidiano La verità Diretto da Maurizio Belpietro Rivolta contro la tassa Sui sacchetti Che salva L'azienda Della Renziana La rabbia Dei consumatori Il balzello In un emendamento PD al decreto Per il sud E aiuta La quasi monopolista Nova Mont Che nel 2016 Ha visto Crollare il fatturato L'amministratore delegato Assido Della Leopolda Fu nominata Presidente di Terna Proprio dall'ex Premier Franceschini Ministro della cultura Straniera Però Questa è la fotonotizia Che sceglie la verità A centropagina La malattia Degli impiegati pubblici Resta un tabù Sotto elezioni Salta Casualmente Tra virgolette L'equiparazione Con i lavoratori privati Per le visite fiscali E la reperibilità Obbligatoria Altre notizie Divisi alla meta Liberi però Diseguali La sinistra è già spaccata Sull'euro Il va E dintorni Serve una legge Per impedire Che il nostro Sia il paese Del no A tutto L'avvenire Patto per la natalità La sfida Delle famiglie Il forum Basta bonus Serve una riforma fiscale Il presidente De Palo Chiede ai partiti Di firmare Un impegno concreto Per sostenere Chi ha figli E invertire Il calo demografico Che c'è In Italia Per la politica Di Maio Pronti a convergenze Parlamentarie In tilt Il sito Per il voto Del Movimento 5 Stelle E poi Questa notizia Colpita da una pallottola vagante Ferita e rinata Adesso Laura Ispira Delle Conversazioni Questa bella storia Che trovate Se vorrete Sull'avvenire Il secolo XIX Siamo in Liguria 5 Stelle L'assalto Degli aspiranti candidati Del Rio PD affidabile Gli elettori Capiscano La posta In gioco Troppi contatti Sito Del Movimento 5 Stelle KO Di Maio Arruola Giornalisti Nelle liste Il mattino Tasse E Sud Sforiamo il deficit Di Maio Una banca Al Ministero Dello Sviluppo Reddito di cittadinanza Fino a 1950 euro E a proposito Delle nomine Raggi Voglio il processo Abbreviato Dimissioni Il nuovo codice La salva Questa è l'inchiesta Sulle nomine Con il primo cittadino Romano In basso C'è anche Ovviamente Siamo sul mattino Quindi Quotidiano Partenopeo La sfuriata Di Sarri Dopo la sconfitta In Coppa Italia Del suo Napoli Contro l'Atalanta Così non si va avanti Dopo l'Atalanta Muso duro Contro Big E i giovani Sole 24 ore Ovviamente Quotidiano economico Dai prestiti Low cost Ai peer La nuova spinta Dell'economia Piani individuali Di risparmio Oltre i 10 miliardi Di raccolta Altre notizie Che riguardano Il mondo economico Monogram Alibaba Stop di Trump Salta la cessione Del colosso Del trasferimento Monogram Di denaro Proprio ad Alibaba L'intervista Accantone Il presidente Dell'anticorruzione Sul codice appalti Le correzioni Sono in arrivo Il presidente Anac Spiega Il dialogo Con le imprese Adesso Chiudiamo la prima parte Andando a vedere I quotidiani Sportivi Partendo Dalla gazzetta Lo sport Con il rullo Juve Così viene definito Rabbiatoro Coppa Italia Due gol Bianconeri Polemica Sul Var Il video Assistant Referee Che ieri sera Ha fatto arrabbiare I Granata Allegri Domino il derby Segnano Douglas Costa E Manzokic Mielovic Espulso Peraltro Anche esonerato Oltre Ad essere stato espulso Sinisa Mielovic Però Attacca Doveri Che consulta la Moviola Per l'entrata di Chiedira Suacqua E non cambia Il giudizio Sul 2-0 Semifinali Con andata e ritorno Juve Atalanta E Milan Lazio Queste sono Le quattro squadre Che si giocheranno Proprio il Trofeo Nazionale E poi A centropagina Ovviamente Grande spazio All'Atalanta Sogni da Grandea Dall'Europa Al trionfo di Napoli Un fenomeno Cresciuto A tutto gasp Squadra fondata Sul lavoro Una città Impazzita Di gioia Fino all'alba La prossima sfida I campionissimi Tutti i segreti Dell'Atalanta Altre notizie Che vediamo Rapidamente Partendo da Spalletti Inter Ascolta i Cardi Datti una mossa Il discorso del capitano Che evidentemente Ha fatto la squadra Siamo in casa Inter Andiamo in casa Fiorentina Pioli Baggio Viene a parlare Con la Viene a parlare Alla Fiorentina Dall'altra parte Speranza Rosso Nera Silva Biglia E Kalinic Riscatto Milan E poi Andiamo in casa Napoli Il presidente azzurro Dell'Aurentis Fiducia Napoli La rosa E abbondante Scendiamo in basso Per gli altri sport Una buona notizia Che riguarda L'ex allenatore Del Milan Vincenzo Montella Debutto Che in Coppa del Rei Il suo Siviglia Batte il Cadice 2-0 Scilla Regina delle Nevi Schifrin Stellare Domina la tomba Anche a Zagabria Basket NBA Coach Messina Spurs Snobbati Va bene Così Corriere dello Sport E sempre Juve I bianconeri Dominano il derby In Coppa Italia Ancora semifinale Apre Douglas Costa Chiude Mandzukic Ma sul gol Toro Furioso Mijailovic Espulso Nella foto Come vedete L'esultanza Proprio di Mario Mandzukic Peraltro Come detto In serata È stato anche Esonerato Sinisa Mijailovic Il mercato In alto Nella parte alta Della prima pagina Del Corriere dello Sport Che poi ovviamente Trovate all'interno Partiamo dal Milan Per il Milan Che sorpresa Tio Wolcott Chiama e si propone L'attaccante L'Arsenal Non gioca E cerca posto In casa Inter Futuro Inter per Deulofeu E il talento Del Barca In prestito Spalletti Boccia il campionato E dice Ho i punti Di un anno fa In casa Roma Bruno Peres Va in Turchia La Roma delusa Allo libera Il Galatasaray Punta tutto Sul brasiliano Si può fare Di spalla Vedete anche qui Una storia dell'Atalanta Che Caso curioso Più vende E più vince I segreti del prodigio Atalanta Sono andati via Gagliardini Che si e Conti Ma dopo l'Europa League In sé in finale di Coppa Italia Questo evidentemente Vuol dire che il progetto Funziona Ancora L'intervista a Pecchia Bravo Sarri Grande Napoli L'allenatore del Verona Estero Rodrigo Salva Montella Il suo Valencia Parte con l'1-1 Anche se c'è un errore Abbastanza evidente Perché Montella Allena il Siviglia E non il Valencia In Premier Il Chelsea raggiunto All'Arsia Nel finale 2-2 show Ciclismo Viviani Milano Sanremo Ecco il mio sogno Il Tutto sport Con cui chiudiamo la prima parte Sempre Juve Questa è l'apertura Del quotidiano Che già Che di solito Già dà molto spazio Alla Juventus E ovviamente Dopo il 2-0 Di ieri sera Peraltro in un derby Apre a tutta pagina Praticamente I bianconeri Dominano il derby Di Coppa Italia E conquistano la semifinale Contro L'Atalanta Manifesta Superiorità Questo è il Titolo Dell'analisi Di Stefano Lanzo In basso Andiamo In casa Inter Barella Rinnova Con il Cagliari Ma Osiglio Vuole prenotarlo Comunque Contratto col Cagliari Fino al 2022 Il Milan Caso Andresilva Via Gennaio Spunta Rafinha Altro Mercato Sarri Rinforzi subito Roma Scossa Monci L'estero Conte Beffa il 92esimo In casa dell'Arsenal Finita 2-2 Montella Ok la prima L'intervista Pelizzari L'apnea E come una Poesia Chiudiamo qui La prima parte Della nostra Rassegna stampa Adesso le previsioni Del meteo Poi la pubblicità E poi rientriamo E entreremo all'interno Dei quotidiani Di casa nostra Tra poco Seconda parte Di mattino 6 Come detto Adesso Entriamo all'interno Dei quotidiani Abruzzesi Per leggere Le principali notizie Anche per entrare Un po' di più Nel dettaglio Partiamo Con il centro Bufera Sulla Stangata Dei pedaggi D'Alfonso C'è la legge Che blocca Gli aumenti A 24-25 Il governatore Scrive Ad autorità Dei trasporti E commissari UE L'autostrada Muore L'Abruzzo Resta isolato Se il contratto Non cambia Questa è la lettera Inviata A chi può Davvero Decidere Questo è proprio Il Manoscritto M5S All'attacco Valutare La revoca Della Concessione Insomma Fatto arrabbiare Davvero Questo Nuovo Aumento Del pedaggio Autostradale In basso Di Natale 40.000 Firme online Così Fermerò Questo salasso Il sindaco Di Aielli Mobilita Il popolo Della rete Dall'altra parte Sempre A proposito Di trasporti L'aeroporto Però Tira le somme Passeggeri A quota 667.000 Malta E Varsavia Saranno Le nuove rotte Mattoscio E Ciarlini Disegnano Il futuro Prossimo Dello Scalabruzzese Pista più lunga E un trenino Che porterà I viaggiatori Alla stazione Centrale Proprio Di Pescara E poi Riassunto Anche la crescita Negli anni 2017 2016 Questa è la differenza Insomma Quasi 100.000 Passeggeri In più Tra arrivi e partenze Insomma Come vedete La maggior parte Dei Voli Sono per Bergamo 190.000 L'aumento più sostanzioso Poi ovviamente Londra E Bruxelles I primi aeroporti Con meno di un milione Di passeggeri Annui Prima c'è Trieste Pescara Si colloca Come vedete Al secondo Posto Vediamo L'apertura Del Messaggero Invece L'anno che verrà Questo è L'apertura Rigopiano Ruba la scena Delitti E scandali Politici L'inchiesta Sulla strage Dell'hotel Verso l'approdo Del dibattimento Per i 23 indagati Altre sorprese In arrivo Dalle intercettazioni Il focus I parenti Dei 29 morti Ovviamente Sono in attesa Dei responsabili Donne nel mirino Attesa Per le perizie Psichiatriche Tre nel mirino Sisma Regione Banche Atenei E sanità Queste insomma Sono le Diciamo Le cose fondamentali Che ci aspettano Rispetto al 2018 Quello che poi Sta entrando adesso E che si svolgerà Insomma nel corso Dei prossimi 12 mesi In basso Tribunali minori L'effetto drammatico Di tagli E disinteresse Dei parlamentari L'opinione parla L'avvocato Alfredo Iaccone Peggio della scure Di accorpare Peggio della scure L'idea di accorpare Lanciano Vasto E sul monavezzano Delegando la scelta Alle comunità Si cambia Decisamente argomento Andiamo Avanti Per cominciare Torniamo sul centro La prima pagina Dell'Abruzzo Lega ambiente Contro Tre nuovi gasdotti Casi sul mona Bomba in metanodotto La rinocchieti L'associazione chiede Di fermare i progetti Oggi c'è l'incontro Altre notizie Che riguardano Il WWF Da consigli Per salvare Gli uccellini Da neve E dal gelo In basso I medici E i politici Mantenete le promesse L'intersindacale sanitaria Sollecita All'attuazione Della riforma Il nuovo ospedale Fra Chieti E Pescara E allora Entriamo adesso All'interno della pagina Di Pescara Che avete visto Poco fa Anche sul messaggero Arrestato Per stalking Il re Della Movida Tiatino Ivan Vaccaro Organizzatore Di eventi al Tortuga Accusato di aver Perseguitato Un noto pescarese Ed ex socio in affari Il giallo Delle auto bruciate La mini incendiata Questa che vedete A Natale Leggiamo la dinascalia Per colpire E danneggiare L'imprenditore pescarese Vittima di stalking Ma chi è Il giovane indagato 26 anni E collabora con i fratelli Nel business Dei locali C'è anche insomma Un profilo Di chi è Restiamo a Pescara Rimanendo sempre sul centro Festa e sosta gratis Per dare il via I saldi Animazione Acquisti Comune Negozi Al centro commerciale Naturale Pronti Serie di eventi Domani per l'apertura Della stagione Degli sconti Che spesa è prevista A persona Tendenzialmente 143 euro Questo più o meno Il budget di spesa A persona Per questi saldi Di inizio Anno Questo è il programma Dei saldi A Pescara E anche le manifestazioni Che saranno presenti Nel capoluogo Adriatico Le trovate Riassunte Proprio qui Emergenza Sulla riviera Nord Sempre a Pescara Bancarelle Sul lungomare Intervenga Il prefetto Proteste Dopo l'aggressione Di una donna Da parte di due Extracomunitari Residenti Chiedono provvedimenti Il mercatino Della stazione Dicono Si è di fatto Trasferito Qui In basso SOS Inquinamento Serve subito Lo stop Al traffico Fiorilli Di Pescara Mi piace Così i cittadini Non vengono Tutelati E poi Questa foto Che è abbastanza Curiosa E via Riosparto Lo scivolo Impossibile Un palo Della luce Proprio in mezzo Ad uno scivolo Per disabile Come se non bastasse Anche un'automobile Per sicurezza Blocca L'uscita Dello scivolo Succede In via Riosparto Quartiere San Donato Di fronte a un supermercato Insomma La foto è abbastanza Eloquente Poi Eccola qua La vedete Per intero C'è questo palo Proprio in mezzo Allo scivolo E anche un'automobile Che per non saperne Leggere Ne scrivere Come si suol dire In questo caso Si è messa anche Parcheggiata lì Metti che qualcuno Possa uscire da lì Assolutamente no Sempre a Pescara Geriatria Scoppia Ma l'influenza Non c'entra Boom di ricoveri Il primario I pazienti ospitati In altre parti Siamo in linea Con lo stesso periodo Dello scorso anno Centropagina La testimonianza Dei familiari Un inferno Come si cura la gente Dietro un paravento Qui non si muore Con dignità In basso Pronto soccorso 12 ore Per una caduta Odissea per madre Figlia Figlio ferito Personale gentile Impegnato senza sosta Ma è una vergogna Insomma sempre un focus particolare Sul Sul nosocomio pescarese Da parte del centro Cambiamo pagina Adeguato e sicuro Riapre il Cine Teatro Sant'Andrea La fondazione Pescara Abruzzo Eseguito i lavori Richiesti dai Vigili del Fuoco Oggi si riparte Con Vi presento Christopher Robin Creatore di Winnie the Pooh Di spalla Crisin Provincia Dincecco Di Marco Deve dimettersi Il consigliere Di Forze di Libertà Chiede un Consiglio Subito Per votare La sfiducia Al Presidente Con i dissidenti A Montesilvano La grande città Fusione Comuni In salita Pescara Vuole il rinvio L'amministrazione Il capologo adriatico Si allinea Alle richieste Già formulate Ad Alfonso Per avere una proroga Sul parere preventivo Delle assemblee Elettive Di spalla Problema Immigrazione De Martinis Grazie allo Sprar Stiamo svuotando Gli alberghi Per il vice sindaco Nuo sistema di accoglienza La soluzione migliore Per affrontare Il fenomeno Evitando concentrazioni In un solo quartiere Ma a Santa Filomena Sale la protesta Rimaniamo a Montesilvano Stop Al caos In via Livenza Il comune Trova l'accordo La strada Che nei mesi estivi E' soggetta a invasione Di auto In sosta selvaggio Troverà uno sbocco Grazie all'apertura Del vicolo Creati Parzialmente Privato E queste sono le foto Che riassumono un po' Quello che dovrebbe Essere Questo Nuovo Accordo Che dovrebbe Migliorare La viabilità A Francavilla Un bagno di folla Per dire addio a Cinzia Francavilla Dolore e sgomento Per la madre Di 38 anni Morta martedì Dopo lo schianto Nel tunnel Della variante Anas Insomma Ma vedete tantissima gente Ovviamente Per l'ultimo Saluto A Cinzia Tucci In basso A San Buceto Teppisti In via Nenni Giovani Pini Sradicati Dalla Rotatoria E poi Per la cronaca San Buceto Cliente ruba dischi Per la mola A lobby E scatta Ovviamente Dell'ospedale San Massimo Scendiamo In pagina Centropagina Rogo di Sterpaglie Allontanato Dalle case L'intervento Dei vigili del fuoco Siamo a Pianella Evita il peggio Squadre al lavoro Per i rami Caduti Cambiamo adesso Torniamo sul messaggero Anche qui Per analizzare bene Il quadro Della situazione Che si è Creato A Pescara Però prima Ci vediamo Il servizio Che riguarda La conferenza stampa Di ieri Del presidente Luciano D'Alfonso Proprio sul caro pedaggio E poi Cambiamo quotidiano Con alcuni giorni Di ritardo Si aggiunge Alla schiera Dei contrari All'aumento Del pedaggio autostradale Del 13% Sulla 24 E da 25 Anche il governatore Della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso Chiamato in ballo Da più parti Da associazioni Di categorie E consumatori Ma anche dall'opposizione In consiglio regionale Il centrodestra E Forza Italia Ieri Hanno depositato Un'interpellanza urgente Con la quale Si chiede alla regione Quali siano le azioni Intraprese Per impedire Il salasso Determinato Dall'ultimo Spropositato Aumento Dei pedaggi Autostradali In possibilità Di utilizzare Un'interpellanza urgente Percepita Cozzingaretti Che nelle ore scorse Aveva alzato la voce Aveva fatto sentire la voce Della regione Lazio Cozzingaretti Io parlo spesso E ci troviamo almeno Una volta la settimana Il giovedì Su questo fronte Abbiamo proceduto Abbiamo determinato Un'azione Divisa Ma per colpire Congiuntamente Rispetto a un tema Che è insostenibile Giuridicamente Noi dobbiamo fare in modo Che questa autostrada Continui a vivere Per il Lazio L'Abruzzo L'Italia Dell'Europa E continua a vivere Se questa autostrada È sicura E si fanno lavori Insomma Vedremo come andrà a finire Questo caro pedaggi Che per il momento I cittadini però Devono Devono prendersi Così A meno che non cambi qualcosa A stretto giro Adesso cambiamo argomento Torniamo sul messaggero Pescara Area di risulta gratis Per l'avvio dei saldi L'amministrazione comunale Strizza l'occhio Agli operatori Del centro commerciale naturale Stesse strategie Per il 2018 Parte l'edizione Natalizia Del Pescara Urban Shopping Eventi sport e intrattenimento Per coccolare la clientela Poi L'idea di Padovano Per il primo maggio Una festa del mare Per celebrare L'apertura Della diga foranea Al porto Andiamo avanti Sempre sul messaggero Cronaca Perseguita l'amico E collega Arrestato Ina Van Vaccaro Noto gestore di discoteca E domiciliari Per aver tormentato L'imprenditore Con cui collaboravo Preso dai carabinieri Il 26enne deve rispondere Di minacce e ritorsioni Taglio di pneumatici Incendio di tende E di auto A centro pagina Ladri a casa Di Gino Baldassare Svaliggiata La cassaforte Piena d'oro Caro pedaggi Eccolo qua Ritroviamo l'argomento Del caro pedaggi Ricorsi di D'Alfonso Lettere all'autority Nazionale E ai commissari UE Gli aumenti Acquiranno L'isolamento E provocheranno Un calo dell'utenza In campo anche I sindaci laziali E delle valli Interne abruzzesi Nel summit di Carsoli Si studiano Clamorose Forme di protesta E poi invece Per l'aeroporto E' stato un anno Da record Che vola con Oltre 600.000 utenti La saga Annuncia Il balzo In avanti Rispetto Al 2017 Vanno bene Anche i conti In arrivo I voli Per Varsavia E Malta In basso Una folla enorme Per l'addio a Cinz Siamo ovviamente A Francavilla Dopo lo schianto Nel tunnel E queste E la Insomma E tante persone Che ieri Hanno voluto salutare Per l'ultima volta Cinzia Tucci Cambiamo Provincia Andiamo all'Aquila Sul Gran Sasso Che è off limits Aprite Questo piccolo Tibet Protesta in quota Di cittadini e operatori Ora basta L'intero comprensorio Muore Emblematico Il caso del rifugio Raccollo Costretto alla chiusura Nel periodo Proprio nel periodo Invernale Questa è la foto Di protesta A fianco Siamo all'Aquila Epifania Fiera blindata Con 20 stalli In più Questa è la conferenza stampa In cui è stata presentata La fiera di Epifania Proprio all'Aquila A Campo Felice Torniamo dunque in montagna Vento forte Di saggi Sulla Seggiovia In basso Suicidio ricca Il Jeep Irregolarità Negli incarichi Degli Asl E poi Per la Iker Sempre all'Aquila Slittato il vertice A Roma Sui 200 Esuberi Del gruppo All'Aquila Rimaniamo Cambiando pagina Piazzale Paoli Il parco Della memoria Il comune Tira dritto Dopo la petizione Di alcuni residenti Per delocalizzare Il luogo Del ricordo Delle vittime Del sisma Nel frattempo Monta l'indignazione Vittorini Sono schifato Centofanti Questa città Non se lo merita Uno spazio Simile E poi In In basso Sant'Agnese Ecco lo scatto D'autore Di Luigi Baglione E Praier Va via Sono soddisfatta Parliamo di Musica sinfonica Il CD Ha preso atto Delle dimissioni Ora stagione Nuova L'ex direttrice Con me Ha ottenuti Grandi risultati Siamo ad Avezzano Il grande accusatore Fui usurato Si dichiara Vittima L'imprenditore Frusinate Angelo Capogna Che ha scoperchiato La tangentopoli In Marsicana L'illuminazione Dopo il suo racconto La scuola mobile Dell'Aquia Ricostruì nei vari aspetti Il mondo corrotto Degli appalti Pubblici Andiamo a Chieti La speranza Dei saldi Al termine dell'anno Della ripresa Timida Il commercio chietino Aspetta il via Alla stagione Degli sconti Per consolidare I primi accenni Di propensione Ai consumi E poi Di prossimo L'udienza Nei guai Un funzionario Del comune Di San Vito Il bilancio Del sindaco Di Lanciano Pupillo Porto a termine Il mandato E non sarò Candidato Alle elezioni Politiche A Teramo Gran Sasso Acqua sicura Nuova marcia Il 13 gennaio Spunta però Il nuovo progetto Nel quale sarà spostata La captazione Sarebbe in un punto Di altitudine superiore A quello attuale Che preoccupa Di spalla Canzio Impianti sportivi Troppo onerosi Per l'ente Parla L'ex Assessore E poi In basso Sindrome di Down Non diagnosticata La ASL Viene condannata I genitori Avrebbero potuto Interrompere La gravidanza Si legge Nel dispositivo Risarcimento civile Pare a 137 mila euro A Giulianova L'assalto Della piscina Comunale Un gruppo I genitori Ragazzi utenti Ieri pomeriggio Ha protestato Contro la chiusura Mattutina Dell'impianto C'è chi minaccia Di restituire L'abbonamento E chiede Che venga Rimborsato Dei soldi Spesi Non potendosi Allenare E poi Sempre a Giulianova Fuggono per il concerto Di Capossela Bloccati alla stazione Dalle controllore Si trovano In una comunità Del maceratese Ma una volta presi Scappano ancora Insomma In basso Prostituta Vince al tar Eccesso di potere Può tornare Sulla bonifica Non crea allarme Il questore di Teramo Le aveva Combinato Un foglio di via Obbligatorio La zona è degradata Da rifiuti ed erbacce Per cui Non esistono Molestie Dirette A Martinsicuro Arrivano i finanziamenti Per il ponte Sul fiume Tronto Prima di andare Allo sport Che vedete qui Vediamo anche Rapidamente Nelle altre pagine Delle altre province Sul centro Megalò 859 posti Diventano a pagamento Il comune Firma l'ordinanza Che attiva le strisce blu Tra due mesi La sosta si pagherà Anche di sabato e domenica Teatro e servizi E riscossione a Chieti Riapre lo sportello idrico Senza gli otto precari Che sono stati mandati via In basso Picchia la moglie Davanti ai figli E viene arrestato Chieti Marito Violento Colpisce Prima Colpisce la donna Attestata E poi in questura Aggredisce anche i poliziotti All'Aquila La fiaccolata 2018 Se la faccia La città Centofanti e Lapiccinini Le firme per mettere I parcheggi A Piazzale Paoli Dimostrano una grave Mancanza di sensibilità Da parte degli aquilani In basso L'Iris L'opera Si farà Progetto a buon punto L'assessore Nessun ripensamento Su Piazzale Paoli E un ricordo Ma anche un monito Per il futuro A Teramo C'è un progetto Tenuto riservato Per captare L'acqua più in alto L'osservatorio Rivela Lo ha presentato La regione In regione Il consulente INFN E strada dei parchi E accusa Non capiamo Tanta segretezza Il 13 Assemblea pubblica Per decidere Anche qui Delle nuove Proteste A centropagina Addio a Marini Apri il primo negozio Di tv Scomparso a 92 anni Il titolare di Super M Attivo dal 54 Stamattina Al Duomo I funerali In basso Evade l'IVA Per pagare gli operai E viene assolto Imprenditore Accusato di non aver Versato più di un milione Il giudice Ha fatto tutto ciò Che ha Potuto Anche qui Siamo quasi arrivati Allo sport E allora Leggiamo rapidamente Visto che siamo a Teramo Alcune notizie Dal capoluogo Aprutino Il commissario Pizzi Salva il servizio Scuola Bus Smentito lo spauracchio Agitato dagli amministratori Prorogato l'appalto Alla ditta Angelino E poi Il vento forte Alberi caduti E tetti scoperchiati Tromba d'aria Spezza la cima Di un pino Alla dei Jacobis Vigili del fuoco In azione In tutta la provincia Sempre a Teramo Petrella Bacchetta L'ex consigliere Corona Piscina comunale Il gestore dell'impianto Chiede all'ex consigliere Di informarsi meglio Prima di intervenire Cambiamo pagina Covelli Per la politica Sarà il candidato Di bandiera di Dodo Teramo soprattutto Provorrà un suo nome In vista delle elezioni Amministrative Di primavera E questo che vedete Nella foto È proprio Alberto Covelli Di Teramo Soprattutto In provincia Un silenzio assordante Sulle nuove captazioni L'osservatorio indipendente Critica le istituzioni Per la gestione Dell'emergenza Del Gran Sasso Convocata l'assemblea pubblica Per il 13 gennaio Per capire meglio Questa nuova Captazione Che sarà più in alto Verso le elezioni Candidature Difficili Ma senza decreto Salva sindaci La soluzione Per Mastro Mauro Potrebbe passare Dalla caduta Dell'amministrazione Giuliese Il sindaco Scalpita E anche nelle stanze Dalle stanze romane Di articolo 1 Sarebbe arrivato Il via libera Cambiamo pagina Cambiamo pagina Tre arresti Convenzione per il mai riqualificato Cico Mendez I progetti I progetti mancati Il sindaco Aveva promesso L'arrivo di un nuovo arredo La ripristino Della piattaforma Da basket In basso Per la cronaca Schianto al semaforo Per una mancata precedenza L'incidente Sempre a Giulianova È avvenuto All'incrocio Tra via Salerno E via Trieste Strisce blu Siamo a Roseto Prorogati anche Gli errori Sui parcheggi L'ordinanza del comune Porta la data di ieri Ma la proroga Scade il 28 febbraio Dell'anno scorso La GAF Proroga annunciata Il 2 gennaio Modificata a pennarello Sui cartelloni Non ha avuto Alcuna efficacia Visto che non c'era Ancora l'ordinanza Insomma Un mezzo Pasticcio Andiamo adesso A vedere lo sport Partiamo ovviamente Dalla serie B Dalle pagelle Del Pescara Pettinari Gradita sorpresa Pagella del girone D'andata Vediamo Un po' di giudizi Con un 7 per Vincenzo Fiorillo Che si è ripreso Il posto a titolare Pigliacelli 5 e mezzo Ma cercherà Di riscattarsi In un'altra squadra E poi 6 e mezzo Per Coda 6 e mezzo Per Perrotta 6 per Mazzotta 6 per Crescenzi 5 e mezzo Per Bovo 5 per Zampano 5 per Fornasier 6 per Palazzi 6 per Carraro 6 e mezzo Per Valsania 5 e mezzo Per Canutè 5 e mezzo Per Coulibaly 6 per Proietti Manca In realtà Probabilmente Proprio lo stesso Pettinari Però insomma 5 e mezzo A Zeman Avrebbe potuto Leggiamo anche Strappare la sufficienza Grazie ai risultati Delle ultime tre gare Del girone d'andata I sette punti Conquistati Contro Novara E Ascoli Tengono a galla Il Delfino Che resta Vicino Alla zona playoff Ma da lui È lecito Pretendere Un po' Un po' di più In basso Per la primavera Buon test Per i baby Biancazzurri Il Delfino Supera Il Pescara Nord In amichevole In attesa Della ripresa E questo è l'allenatore Massimo Epifani Proprio Della primavera Del Pescara Dall'altra parte Ah ecco Il resto Giustamente Mancavano gli attaccanti Ecco qua Il sette e mezzo Per Pettinari Poi sei e mezzo Per Brugman Sei e mezzo Per Capone Cinque Mancuso Senza voto Ganz anche lui Che andrà via Andrà ad Ascoli Cinque e mezzo Per Baez Cinque e mezzo Per Del Sole Cinque e mezzo Per Benalì Ma in alto Come vedete Ci sono le questioni Di mercato Intesa per Embalo Piace Emanuello Ganz Ascoli E oggi è il giorno Decisivo Perché si concluda La trattativa Andiamo in serie C Teramo Frenata per Sorrentino Priorità alle uscite L'ex punta Della San Mettese Non entusiasma Campitelli Il DG Capaldi Bisogna tenere Sempre il bilancio In ordine In basso Fargione Al Francavilla Siamo in serie Di Pupinski Ai Nero Stellati I giallorossi Prendono Partire dal Pescara I Pratolani Ingaggiano Il difensore Svincolato Peraltro A Francavilla Arrivato anche Domenico Di Cecco In basso Bartolini Un 2017 Da sogno Un anno splendido Per il Giulianova Eccellenza Il presidente del Real Sempre davanti a tutti Da gennaio a dicembre Promozione Buone notizie Annotalesco C'è l'accordo Per portare a termine La stagione Palla a volo Si è col cuore Non basta Bergamo sale in vetta L'impavida Ortona Al tappeto Contro i Lombardi Ma quanta sfortuna Quarta sconfitta Per la squadra di Lanci Domenica Sfida al Club Italia Di spalla Roseto Aspetta Verona Lupusor Suona la carica E l'ora Del rilancio Per La formazione Di Di Paolo Antonio In basso Una notizia Che insomma Era nell'aria L'EMS Tina Focus Ecco il nuovo team Di Giuliani Ciclismo L'ex DS Nippo Fantini Lancia una squadra Continental Italo-Romena Mercoledì Ci sarà il raduno A Pescara E questo è proprio Stefano Giuliani Che abbiamo intervistato Abbiamo proposto L'intervista Proprio Martedì sera E che vi riproporremo Questa sera Alle 21 Proprio Sul nostro canale Il 14 Il Digitale Terrestre Con le prospettive Anche per il nuovo anno Questa nuova squadra Cambiamo Giornale Andiamo Sul messaggero Sempre per lo sport Togni diventa Mister nel segno di Zema Lo ricorderete Romulo Togni La punizione magica Al 95esimo Col Catania Fu la sua partita Perfetta Con il Pescara Sono felice Che i tifosi Si ricordino di me Ha detto Verrete che il Boemo È una garanzia Per il mercato Embalo dal Palermo Si può fare Chievo e Cagliari Vanno su Pettinari E questo è Pigliacelli Che è andato Alla Pro Vercelli In basso Sherrod Adam Esmetti Roseto Boisi Grandi ex in città Per le festività Augurano In bocca al lupo Ai compagni Che ora sono In difficoltà Nell'altra pagina Teramo Prima vendi Poi compri Il DG Capaldi Salvaguardare il bilancio E poi aspettiamo Il Verotulli Per fare Gol Dall'altra parte L'Aquila Franco Nero In tribuna Con la Vis Vediamo anche Andiamo sulle colonne Della città Eccolo qua Rimanendo sempre In casa Teramo Teramo I primi arrivi La prossima settimana Definiti ruoli Masta Vorrebbe giocare Anche col 4-3-2-1 Capaldi Fiducia In questo Gruppo In basso Per il basket Ruscitti Carica Teramo In vista del derby Cuore caldo Mente fredda Domenica comincia Il girone di ritorno E ci sarà subito Una bella partita Al Palace Capriano Tra Teramo E Giulianova E con questa notizia Noi chiudiamo Mattino 6 Che torna domani Puntuale alle ore 8 Io vi ricordo L'appuntamento Alle 14 Con il TG6 Con le principali notizie Dalla nostra regione E' tutto Buona giornata Dalla nostra regione DiSC Della nostra regione